Anticipazioni Beautiful, trama puntate, sabato, 7 maggio 2022. Thomas è furibondo, dopo aver scoperto che Vinny, ha manomesso i risultati, del test del DNA, richiesto da Steffi. Il bambino, dunque, non è di Liam ma di Finn. Vinny si scusa, affermando che aveva l'accesso, per modificare i dati, e che lo ha fatto solo per lui. Poi ricorda al Forrester la loro infanzia, e quanto ha significato per lui, averlo al proprio fianco. Il discorso finisce su Hope. Per il giovane, Thomas può essere felice, solo con lei. Ridge ammette di non vedere l'ora, di diventare nonno. Steffi, sente il bambino scalciare. Finn arriva, mentre i due scherzano sul futuro calcistico, del piccolo. Ridge è orgoglioso di suo genero, e lo esorta a concentrarsi, sul suo ruolo di padre. E' certo che ami sua figlia, e che non andrà da nessuna parte, senza di lei. Zoe, spiega a Paris che è Carter che vuole, non Zende con il quale, non intravede futuro. Grazie a tutti.